Musica Ben trovati, ben trovati anche questa settimana da Paola Sartori in Dal Campo alla Tavola. La trasmissione è realizzata in collaborazione con la CIA di Padova per conoscere sì il mondo dell'agricoltura, ma non solo quello perché ci sono tantissime cose afferenti a questo mondo che hanno bisogno di spiegazioni un po' particolari. Sono per esempio tutte le parti contributive, retributive, insomma tutta quella parte molto legata alla burocrazia che non sempre sappiamo come leggere e interpretare. Torniamo oggi allora su questi argomenti abbastanza spinosi in questo periodo, lo facciamo con Massimo Lazzarin che ritroviamo con molto piacere, Massimo ben trovato. Buongiorno. Massimo Lazzarin è direttore del patronato della CIA, abbiamo novità che si sommano le novità, Massimo nell'ultima puntata in cui ci siamo visti avevamo dato alcune indicazioni di cambiamenti che c'erano, soprattutto legate anche alle pensioni, ai contributi di 1000 euro eccetera, però la cosa comincia a diventare sempre più complicata anche. Ci sono diverse novità rispetto all'ultima puntata che abbiamo fatto per quanto riguarda il campo previdenziale, essenzialmente le novità riguardano il 1000 proroghe che è stato approvato da poco, il decreto che ha previsto praticamente alcune deroghe per quanto riguarda alcuni lavoratori. Ricordiamo che la nuova riforma delle pensioni, la riforma Fornero, prevede alcune clause di salvaguardia per alcuni tipi di lavoratori e il 1000 proroghe ha incrementato questa clause di salvaguardia introducendo per gli esodati, è un termine un po' difficile, ma praticamente tento di tradurlo in soldoni, sono quei lavoratori che sono rimasti senza lavoro o meglio sono rimasti a casa attraverso accordi collettivi o anche singoli con le aziende e gli è stato riconosciuto un compenso purché rimanessero a casa, però voi capite che con la nuova riforma questi rischiavano di non andare più in pensione. E qui è stata introdotta una mini clausola di salvaguardia che praticamente prevede che tutti quelli che maturano i requisiti sia contributivi che anagrafici con la vecchia normativa entro 24 mesi dall'approvazione del decreto e quindi dal 6 dicembre del 2011, quindi entro il 6 dicembre 2013, questi qui possono andare con la vecchia normativa. Non è una grande cosa perché voi capite che ci sono comunque, rimangono fuori tantissimi altri lavoratori che quelli lì a 55, 56, 57 anni si trovano senza lavoro e con questa nuova riforma delle pensioni che li vedono costretti a andare in pensione a 62 anni, 63 anni per la pensione anticipata o addirittura a 67 anni per la pensione di vecchiaia. Infatti. E quindi insomma, sì, alcuni problemi. Poi l'altra novità che anche questa è abbastanza, questa è un po' più interessante è che sono state tolte le penalizzazioni per quanto riguarda i pensionati che andranno a soffrire della pensione anticipata. Cioè praticamente tutti quei pensionati che dovevano andare in pensione prima dei 62 anni, l'età richiesta per la pensione anticipata, non si vedranno la pensione penalizzata dell'1-2%, questo fino al 2017. E quindi anche qui... Salvo novità dell'ultimo momento, perché ormai ci aspettiamo di tutto. Sicuramente, sicuramente. E poi un'altra novità che riguarda in questo caso i pensionati, e quindi quelli che sono già in pensione, che il pagamento delle pensioni, il famoso pagamento delle pensioni, oltre i 1.000 euro, che doveva andare in vigore dal 7 marzo, è stato prorogato al primo di maggio. Quindi c'è ancora un po' di tempo. C'è ancora un po' di tempo. E qui, allora, dobbiamo dire che praticamente le pensioni che entro questo scaglione praticamente in Italia sono circa 2 milioni e 200 mila. Su questi 2 milioni e 200 mila pagate in contanti, 450 mila, sono le pensioni che sono oltre i 1.000 euro. Quindi non sono grosse cifre, siamo all'incirca sul 2%. Comunque ci sono. Comunque ci sono. E i disagi ci sono, perché i disagi comunque non è che non ci siano, ci sono. Anche perché questo cosa prevede? Prevede praticamente un maggiore costo per i pensionati, perché devono praticamente aprire un conto corrente imposto negli istituti bancari. Qui c'è una piccola diatriba tra gli istituti di credito e lo Stato, perché praticamente è chiaro che gli istituti di credito non vogliono aprire ai pensionati dei conti correnti a zero lire, vogliono farsi pagare. A proposito, qui c'è un decreto che è stato, non un decreto, scusate, un emendamento di partisan, come si dice, che prevede un impegno da parte del governo agli istituti di credito di aprire dei conti correnti per praticamente i pensionati e quindi le persone fino a una fascia di 1.500 euro, quelli che hanno pagamenti e spese fino a 1.500 euro. E qui dove viene applicata e non viene applicata l'imposta di bollo, ma addirittura non vengono applicate le spese. Non si sa se andrà in vigore, però insomma ecco questo... Il problema è sempre che non si sa. Giusto, questo insomma potrebbe essere un'agevolazione interessante. Comunque ecco c'è ancora tempo fino ai primi di maggio, però sicuramente il pensionato deve tentare di mettersi in regola. Assolutamente, cioè ha avuto una piccola proroga, però questo non significa che il problema è stato risolto. Quindi bisogna organizzarsi in qualche modo. Tra l'altro vi state organizzando voi invece Massimo anche per i 7.30? Sì, allora innanzitutto prima di entrare in merito ai 7.30 voglio ricordare a tutti quanti che noi stiamo facendo una grossa campagna di informazione come associazione, sia per quanto riguarda i nostri associati, quindi principalmente gli agricoltori, ma non solo, anche per i pensionati. Voglio ricordare che la settimana scorsa abbiamo fatto tre assemblee molto partecipate con i nostri associati, dove abbiamo spiegato tutte le varie novità sia dal punto di vista previdenziale che dal punto di vista fiscale. e in questi giorni stiamo organizzando delle altre assemblee con la nostra associazione nazionale pensionati, ricordo quella del 20 marzo che faremo a Cittadella, dove andremo a spiegare le varie novità per quanto riguarda i pensionati e i cittadini. A che ora vi troverete a Cittadella Massimo? Sì, la cittadella alla mattina. Sì, 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 alla mattina. Torno sul 7.30 perché credo che abbiamo solo due minuti ancora a disposizione. Qui c'è l'Imu che è veramente un balzello pesante, soprattutto per le aziende agricole, soprattutto per tutti, però diciamo che le aziende agricole... Allora, l'Imu diciamo che non c'entra con il 7.30, anche se in realtà c'entrerà dal prossimo anno, perché comunque è un'imposta, tra l'altro il termine è l'imposta municipale propria che non c'entra con l'Imu, vabbè, comunque l'acronimo non è proprio lo stesso. Imposta municipale unica. Unica, ecco, e praticamente questa imposta va a comprendere la tassazione IRPEF della parte immobiliare e quindi va a sostituire la tassazione IRPEF della parte immobiliare e comprendendo anche le aliquote, le addizionali sia regionali che comunali e va a sostituire l'ICI. La novità principale qual è? Che viene reintrodotta la tassazione della prima casa e quindi dell'abitazione principale e attenzione che rispetto a l'ICI per abitazione principale si intende l'abitazione dove si ha la residenza e la dimora principale. Certo, abbiamo ancora un minuto Massimo. Bene, e la novità è che vengono tassati i fabbricati rurali e qui praticamente per le nostre aziende, aziende agricole, c'è, sarà un aggravio, un salasso proprio. Una mazzata, in alcuni casi una mazzata perché abbiamo calcolato che ci sono aumenti anche del 500%. Le aziende agricole che già stanno vivendo un periodo difficilissimo, difficile, difficile, difficile e si vedranno costrette a pagare questa nuova imposta. Voi state lavorando quindi anche per capire quanto, come, eccetera, quindi le aziende possono comunque sempre fare riferimento al patronato? Certo, sicuramente possono venire presso la nostra organizzazione più che al patronato dove noi spiegheremo e abbiamo anche dei casi, faremo le simulazioni, tenteremo anche di spiegare quale appunto sarà per loro l'imposizione, però attenzione stiamo facendo anche una grossa azione politico-sindacale a livello di ministero per tentare di abbattere perlomeno una parte dell'aliquota per i beni strumentali. Massimo, purtroppo non possiamo andare avanti ancora con questa conversazione che è importantissima. Io spero di averti presto di nuovo qui in studio perché sono cose delicate e la gente ha bisogno soprattutto di informazioni. Quindi intanto ti ringraziamo per averci fatto compagnia. Grazie a voi. E dal campo alla tavola noi ci ritroviamo la prossima settimana.